Davide Codavini, perché siete qua oggi? Siamo qua perché non ci stiamo, perché quello che è successo al Senato mercoledì 27 ottobre è stata una pagina vergognosa della storia dei diritti civili in Italia. Siamo qui per far sentire la nostra rabbia e la nostra protesta. Quello che è successo è stato un modo di negare, umiliare, far arretrare la società e umiliare la comunità LGBT+, e la comunità delle persone con disabilità. Siamo qua per dire che andiamo avanti, che non ci fermiamo e che il futuro per questo paese deve essere di inclusione, di eguaglianza e di universalità. Quello che è successo in Senato è soltanto uno sguardo all'indietro, una retroguardia della storia che noi non accettiamo. Andiamo avanti.